sono le 12 e 51 del 9 febbraio 2023 adesso vi conduco al peschione la classica meta prevista di noi ragazzi ragazzini classe 1955 54 53 52 le seguenti e posto adesso in montagna posso ben dire che ho l'onore e il merito di ripercorrere il percorso che conduce al peschione e un po bisogna stare attenti qua certamente le nuove generazioni non ci vengono qua c'è stato l'anno scorso è vero che i videi inediti che ho prodotto anzitempo quel peschione sotto un masso pieno guardate quanto è bello il luco dei marci è stato l'anno scorso